Oggi il primo consiglio comunale di Pesaro del sindaco Andrea Biancani Omicidio di Fano, domani Lucarici in tribunale per l'udienza di convalida Cambio di comando alla Capitaneria di Porto, saluta di Lucca, ecco Gaudino Albergatori pesaresi, parte la presidenza di Marco Filippetti Un luglio da gustare con i menù del Santa Marta Festival Una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News Telegiornale di giovedì 27 giugno che apriamo con le immagini girate proprio questo pomeriggio in municipio a Pesaro che vi mostrano il primo consiglio comunale di Pesaro con Andrea Biancani Sindaco eletto lo scorso 9 giugno 32 i consiglieri, 21 di maggioranza, 11 di minoranza compreso l'ingresso in assisi del candidato a sindaco di centrodestra Marco Lanzi Si sono riuniti 9 assessori di una giunta che ha 8 conferme e una novità ovvero il ritorno di Sara Mengucci e l'uscita di Enzo Belloni che nel corso della seduta è stato votato come nuovo presidente del consiglio comunale in luogo di Marco Perugini Ed ora passiamo alla cronaca, è previsto per domani alle 9 nelle tribunale di Pesaro l'udienza di convalida del fermo di Luca Ricci, 49enne fanese, reo confesso del dubbio omicidio dei genitori Giuseppe di 75 anni e Luisa Marconi di 70 anni Il delitto, lo ricorderete, è avvenuto la notte fra domenica e lunedì scorso con l'uomo ora recluso nel carcere di Villa Fastigi dopo aver confessato il dubbio omicidio in seguito a 16 ore di interrogatorio L'autopsia intanto ha chiarito che il padre Giuseppe è morto colpito da 11 martellate mentre la madre Luisa risulterebbe morta asfissiata per strangolamento con un filo elettrico E invece il cadavere trovato lo scorso dicembre in un casolare nelle campagne di Montelabate è quello di Angelo Oginba, 19enne italiano che aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 3 settembre quando si era volontariamente allontanato dalla sua casa di Montelabate Dopo due mesi era stato ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione senza documenti al quale era impossibile dare un nome Dopo sei mesi di approfondimenti l'esame del DNA ha confermato che si è trattato di al giovane Angelo che aveva deciso di farla finita Sabato alle 10 si terrà il funerale al cimitero di Montelabate Cambio di comando alla Capitaneria di Porto di Pesaro Dopo dieci mesi lascia la comandante Claudia Di Lucca che avrà un nuovo incarico a Roma e le subentra Nicola Gaudino proveniente dalla Guardia Costiera di Rimini Ascoltiamo le loro parole a margine della cerimonia di passaggio di consegna avvenuta questa mattina presso la Guardia Costiera di Pesaro Dopo quasi due anni di comando il capitano di fregata Claudia Di Lucca lascia la Capitaneria di Porto di Pesaro Urbino e assume un nuovo incarico a Roma presso il Comando Generale di tutte le Capitanerie A subentrarla al comando della Guardia Costiera Provinciale il capitano di fregata Nicola Gaudino proveniente dalla Capitaneria di Porto di Rimini dove ha ricoperto l'incarico di comandante in seconda Questa mattina nel piazzale pesarese antistante la Capitaneria la solenne cerimonia di passaggio di consegne alla presenza del comandante marittimo delle Marche Vincenzo Vitale e delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia è una giornata impegnativa, non vorrei dire quella più difficile del comando ma forse sì perché è una giornata dove davvero si tirano le somme di tutto di tutto quanto che è tanto, più di quello di cui ci si rende conto nel corso del comando quindi il lavoro è stato davvero tanto, è stato un bel lavoro il testimone passato al comandante Gaudino è importante e sono sicura che lo porterà avanti in maniera eccellente Il bilancio è di crescita, a me non piace dare numeri a me piace parlare in linea generale, sicuramente è un bilancio di crescita c'è tanto fermento intorno al porto, intorno alle competenze istituzionali peraltro ora siamo all'inizio della stagione estiva per cui impegnerà il personale con l'operazione Mari Sicuro e siamo proiettati assolutamente sulla sicurezza della navigazione sicurezza della balneazione che è una delle nostre principali competenze a cui teniamo tanto Una grande emozione, soprattutto orgoglioso e contentissimo di essere il nuovo comandante della capitana di Porto di Pesaro il capo del compartimento in una realtà particolarmente eccezionale Prevenendo da Rimini qualcosa già conoscevo però adesso cambia l'ottica con il quale si vedono le cose un conto da turista e un conto da comandante della capitana di Porto lavorerò finché funzioni tutto al meglio nell'interesse collettivo della città e della collettività Fra le criticità da affrontare rimangono i temi strutturali del Porto dall'insabbiamento della Darsena al Dragaggio temi fra l'altro particolarmente sollecitati dal neosindaco Biancani nei suoi nove anni da consigliere regionale È un lavoro che stiamo affrontando assolutamente siamo certi che in breve termine con l'autorità di sistema portuale si arriverà ad una soluzione assolutamente definitiva per poter eliminare uno dei problemi che affligge un po' tutti i porti dell'Alto Adriatico E dalla Guardia Costiera passiamo alla Guardia di Finanza che oggi ha presentato il report del suo ultimo anno e mezzo di attività e contestualmente è stata coinvolta in un'operazione di contrasto all'Andrangheta di concerto con le fiamme gialle di Reggio Calabria La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 5 milioni di euro ad un imprenditore edile in odore di Andrangheta un'operazione supportata dai comandi delle fiamme gialle di Ancone e Pesaro Urbino provincia in cui sono stati confiscati alcuni terreni e immobili riconducibili al provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell'imprenditore in questione è un'operazione che arriva nella settimana del 250esimo anniversario della Guardia di Finanza occasione in cui le fiamme gialle pesaresi hanno tratto il bilancio della loro attività nel periodo compreso tra gennaio 2023 e maggio 2024 un periodo in cui in contrasto all'evasione fiscale sono stati individuati 84 evasori totali per beni sequestrati a 4 milioni e 200 mila euro individuati anche 124 lavoratori in nero nel contrasto alla criminalità organizzata in materia di riciclaggio sono state denunciate 24 persone di cui 3 tratti in arresto ricostruendo operazioni illecite per 2 milioni e 300 mila euro in applicazione della normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 56 soggetti in tema di lotta allo spazio di stupefacenti 39 segnalazioni all'autorità giudiziaria con 15 arresti e 23 kg di droghe sequestrate in tema di merci contraffatte sono stati sequestrati 323 mila articoli ritenuti non sicuri o con false etichettazioni del made in Italy in tema ambientale sono state sequestrate 600 mila tonnellate di rifiuti anche pericolosi in stato di abbandono o degrado c'è un nuovo presidente per gli albergatori pesaresi ieri in sera infatti l'assemblea dell'APA Hotels ha votato all'unanimità come nuovo presidente Marco Filippetti che succede all'incarico finora detenuto da Paolo Costantini in un'estate già avviata cambia il vertice dell'associazione albergatori pesarese nell'assemblea dell'APA tenutasi al Charlie Urban Hotel è avvenuto il passaggio di presidenza dal dimissionario Paolo Costantini a Marco Filippetti del gruppo Lindberg Hotels che controlla in città l'Excelsior, il Nautilus e lo stesso Charlie Filippetti è stato votato all'unanimità come nuovo presidente degli albergatori e nel suo discorso di insediamento è partito proprio dall'unità di intenti che dovrà caratterizzare il miglioramento del turismo cittadino da un dialogo con l'entroterra a un obiettivo prioritario della destagionalizzazione Il vero neo della pesaro turistica è la stagionalità perché ovviamente con tre mesi di stagione è difficile fare turismo insomma quindi anche il punto che ho toccato sulla destagionalizzazione cercando di convolgere anche altri attori per cercare di fare un turismo annuale va proprio in quella direzione Un percorso di collaborazione sostenuto in assemblea anche dai vertici di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti e Agnese Trufelli al sindaco di Pesaro Andrea Biancani fino all'assessore regionale Francesco Baldelli che ha riconosciuto il ruolo cruciale del turismo pesarese nell'intera economia marchigiana Collaborazione sostenuta anche dai consiglieri comunali di centrodestra Michele Redelli e Antonio Bartolomei Fra i temi da affrontare la valorizzazione dell'auditorium Scavolini così come la vitrifligorena asset strategici per le convention Altro nodo prioritario è quello del salto di qualità nel comunicare Pesaro come destinazione turistica La comunicazione a livello turistico sta cambiando notevolmente ovviamente i social e gli investimenti in web la stanno facendo da padrona fondamentalmente nel 2024 è difficile ancora pensare come dicevo prima che un prezzo barrato possa portare turismo di qualità insomma porta turismo ma è un turismo non qualitativamente dove vogliamo portare questa città Sapersi comunicare intesa come strategia cruciale anche nel recupero del turismo estero Stiamo notando che comunque l'interesse per lo straniero nella riviera sta ritornando quindi di questo siamo molto contenti dobbiamo essere lì bravi pronti a cercare di pescare questo turista soprattutto tedesco, austriaco e svizzero Da questa domenica e per tutto il mese di luglio il cortile dell'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro torna ad essere un ristorante aperto alla città con i menu e il servizio proposto dagli studenti Domenica abbiamo intanto l'inaugurazione del Santa Marta Festival, seconda edizione e poi dal 3 luglio fino alla fine di luglio per le 4 settimane di luglio inizierà questo festival dove i ragazzi con disabilità e normodotati lavoreranno insieme chiaramente ai professori di sale, cucina e di accoglienza per predisporre dei menu tematici e per farsi conoscere alla cittadinanza perché tranne quelli, quei pochi che riescono a venire nel nostro istituto e vedere la professionalità e gustare la professionalità dei nostri piatti non vedono i nostri ragazzi all'opera ma i nostri ragazzi acquisiscono delle competenze e una professionalità tutti è naturale che questi ragazzi qua devono trovare delle possibilità per le abilità e per quello che hanno oltretutto anche per la simpatia che dimostrano in tante occasioni e specialmente nei momenti in cui bisogna socializzare perché non hanno pregiudizi, non hanno secondi fini sono puri e in questo contesto noi dobbiamo lavorare dobbiamo inserire questi giovani e fare in modo che tutta la comunità, tutta la provincia partecipi i nostri ragazzi prepareranno dei menu tematici quindi ogni settimana si passerà da prodotti tematici del nord Italia poi del centro Italia poi avremo la settimana di piatti etnici e infine il sud Italia e le isole vedrete che i piatti che proporranno, le bevande, i cocktail che prepareranno non li batte nessuno diciamo ecco questa seconda edizione vuole far emergere questo la professionalità dei ragazzi, dei nostri ragazzi i musei civici di Pesaro e la Galleria Nazionale delle Marche a Palazzo Ducale di Urbino sono stati insigniti di due stelle dalla guida verde Michelin Italia dai giornalisti della storica guida turistica e dal direttore Philippe Oren il riconoscimento delle due stelle che nella leggenda Michelin significa che il sito vale una deviazione sul viaggio aggiunge un riconoscimento internazionale e prestigioso per i musei di Pesaro e di Urbino dopo l'albero della sostenibilità realizzato a Natale tra la prefettura e Marche Multiservizi arriva una nuova collaborazione per veicolare tramite l'arte messaggi quali sostenibilità ambientale e economia circolare una sinergia realizzata grazie a SCART il progetto artistico del gruppo ERA con cui vengono prodotte installazioni esclusive fatte al 100% di rifiuti in questo caso grazie agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze è stata realizzata un'esposizione di quattro opere raffiguranti ritratti di personaggi sportivi italiani ovvero Dino Zoff di Chiara Gulmini realizzato con ritagli di palloni da calcio tessuti di cuoio e frammenti vitrei Alberto Tomba di Annita Penna che ha lavorato all'opera con SCART di pelle ritagli di tessuti plastici, cerniere e scaglie in plastica Sofia Goggia ancora di Chiara Gulmini che ha realizzato l'opera con SCART di pelle e di plastica così come parti di accessori di moda e sempre di Chiara Gulmini Yuri Chechi realizzato con ritagli di tessuti, SCART di pelle, accessori di moda e bottoni è partito questo pomeriggio il Cater Raduno a Pesaro con quattro giorni di appuntamento delle festival della trasmissione di Radio 2 Caterpillar vi ricordiamo alcuni appuntamenti a cominciare da quello di questa sera alle 21.30 in Piazza del Popolo con la stand-up comedy di Yoko Yamada Mary Poppins e i doni della morte domattina alle 6 c'è il concerto all'alba di Cosmo sul palco di Baia Flaminia un palco sul quale arriveranno dalle 18 Frenchi, iEnergy MC alle 21.30 Valerio Lundini e i Vazzanicchi e alle 23 Dito nella Piaga da Pesaro a Gabice Mare torna il grande festival disco diva il festival dell'estate di Gabice all'insegna della disco music arrivato alla decima edizione anche quest'anno tanti concerti di ospiti internazionali in Piazza Valbruna si comincia domani con il gruppo Soul Britannico Delegation sabato sera invece dedicata alla storia della disco 70-80 che vedrà protagonisti David Nobles e Kid Creole and the Coconuts domenica sera invece all'insegna del live di Montefiori Cocktail ovvero il maggiore rappresentante italiano nonché uno dei nomi più importanti della scena musica lounge mondiale fin dalla metà degli anni 90 ed ora ci occupiamo di due eventi a scopo benefico che si svolgeranno a Pesaro cominciamo dal consueto incontro conviviale estivo a sostegno dello Iopra il 7 di luglio presso il ristorante Baratov ed è una cena conviviale dove avremo la direzione artistica tra virgolette della serata del DJ Minuz e avremo dei piccoli interventi del teatro Accademia l'Iopra ovviamente raccoglie fondi per aiutare le persone in difficoltà in particolare i malati terminali di cancro li accompagna diciamo in questo percorso difficile e quindi per farlo ha bisogno ovviamente di mezzi economici importanti ecco perché in più di un'occasione, in più volte all'anno noi cerchiamo di fare questi eventi proprio per raccogliere soldi che ci servono per le attività infermieristiche per le attività psicologiche per le attività di supporto e di trasporto dei malati insomma per tutti questi tipi di attività e per queste ragioni noi ci adoperiamo in questo senso Un altro evento benefico che si ripete nel territorio da ormai sette anni è quello del raduno di autocabrio top down Sabato 29 e domenica 30 giugno si svolgerà la settima edizione di Top Down il raduno di autocabrio che offre agli appassionati da autoscoperte una passeggiata nell'entroterra tra colline e borghi storici con una finalità benefica quella di raccogliere fondi a favore della ricerca del professor Strippoli dell'Università di Bologna per una cura genetica volta a debellare la disabilità intellettiva nei soggetti con sindrome di Down Top Down è un progetto che nasce da un'idea di un gruppo di appassionati possessori di auto sportive che avendo figli con sindrome di Down hanno pensato di fondere la loro passione per le auto con l'attenzione verso la ricerca Noi crediamo in questo progetto ormai da sette anni è la settima edizione questo progetto è sostanzialmente una ricerca genetica che cerca una cura chiamiamola così per alleviare o possibilmente annullare la disabilità nei soggetti con sindrome di Down che è la malformazione genetica più diffusa al mondo quindi annullare la disabilità di qualcosa come 6 milioni di persone nel mondo significa cambiare la vita a loro e anche a tutti i relativi familiari quindi è vero che ci divertiamo con le macchine è vero che facciamo un bel giro vediamo posti belli però sotto c'è un messaggio sociale un pochino più importante In piazzale della Libertà di Pesaro sabato alle 15 ci sarà la partenza delle auto che dopo un percorso fra strade dell'entroterra si riuniranno al barco Ducale di Urbagna ai partecipanti scattati da Bagno di Romagna e Castelfiorentino Domenica invece il punto d'arrivo comune per il pranzo e il ristorante Utopia del Parco Miralfiore luogo simbolo di inclusività Al via sono previsti 64 equipaggi per circa 130 partecipanti provenienti da tutta Italia Abbiamo partecipanti dalla Lombardia abbiamo partecipanti dalla Toscana abbiamo partecipanti dall'Abruzzo abbiamo qualcuno che dovrebbe raggiungersi anche dal Friuli e dal Veneto quindi sì effettivamente da tutta Italia la particolarità unica del nostro raduno non è tanto lo sfondo di beneficenza perché effettivamente esistono anche altri raduni di beneficenza però è il fatto di avere tre punti di partenza diversi in tre regioni diverse che quindi accolgono partecipanti da ancora più lontano e poi il bello è partire da tre posti diversi fare tre strade diverse e poi riunirsi tutti insieme e fare l'ultimo pezzo tutti insieme Si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News ma prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sul nostro canale 80 a cominciare da quello che arriva subito dopo il DG alle 20 vedremo lo speciale dedicato alla serata finale della sessantesima mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro finale tenutosi lo scorso weekend a seguire alle 21.20 un approfondimento con la nostra Francesca Tricca riguardante la fondazione Vanda di Ferdinando e poi ancora alle 21.40 invece il nostro Paolo Pagnini vi porta alla scoperta della edizione 2024 di EcoFest dal tramonto all'alba e poi vi ricordo naturalmente l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini vi aspetto domattina in diretta alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali Si chiude invece qui l'appuntamento informativo di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi Vi ringrazio per averci seguito